Stop alla sospensione delle ambulanze della Croce Azzurra lo hanno deciso i giudici del Tarra di Salerno che hanno accolto la richiesta di annullamento. Il provvedimento di sospensione ad Oras per gravi danni d'immagine ed uso improprio dei mezzi di soccorso era arrivato dall'asra di Salerno dopo l'elezione a sindaco della città di Capaccio Pestum di Franco Alfieri. Sette ambulanze avevano sfilato in un corteo a sirene spiegate per la vittoria di Alfieri. Un video diventato virale sul web aveva ripreso il corteo in festa che però non è piaciuto all'asra salernitana tanto da sospenderne la convenzione. Una situazione che stava però creando panico e confusione tra i cittadini del Cilento perché non avendo un vero e proprio pronto soccorso e venendo a mancare anche le ambulanze, le tre postazioni di Agropoli, Roccadaspide e Licinella rimanevano scoperte e con un solo mezzo messo a disposizione dall'asra non si riusciva a coprire e a garantire l'assistenza in un territorio così ampio come quello a sud della provincia salernitana e per di più in piena stagione estiva. La situazione però sembra ora essere rientrata e da ieri sera il servizio è tornato alla normalità. Tutte le ambulanze sono rientrate regolarmente nelle loro postazioni e garantiranno l'assistenza sanitaria.